Dovreste riuscire a vedere. Proviamo a vedere degli esempi, così è più chiaro. I have been studying all afternoon. Quindi io voglio enfatizzare il fatto che tutto il pomeriggio che sto studiando, quindi ho studiato tutto il pomeriggio. I have been studying all afternoon. Con il present perfect continuous, quindi noi vogliamo proprio enfatizzare la durata di quest'azione, vogliamo enfatizzare lo svolgimento di quest'azione. Tipo, arriva mia mamma in casa e dice, mamma mia, sei stanchissima. Io dico, eh, I have been studying all afternoon. Ho studiato tutto il pomeriggio, tutto il pomeriggio che sto studiando. Oppure, scientists have been investigating global warming for years. In questo caso, proprio voglio enfatizzare il fatto che sono anni che si sta studiando, ricercando, investigando il riscaldamento climatico. Oppure, where are you? L'esempio che abbiamo visto prima. Where are you? Sono tre ore che ti sto aspettando. Quindi voglio proprio enfatizzare la durata di quest'azione. Oppure, di nuovo, per parlare di azioni che sono concluse ma che hanno degli effetti visibili. Quindi, you look tired. Have you been working hard? Sembri stanco. Stai lavorando tanto. Have you been working hard? Oppure, anche per parlare di qualcosa che noi abbiamo fatto recentemente. Quindi, però, di nuovo, c'è un po' un'enfasi. Quindi, magari si sta facendo un po' di gossip e tu dici, ah, you have been spending a lot of time with him lately. Quindi, hai trascorso tanto tempo con questa persona ultimamente. Perché vogliamo proprio enfatizzare la durata di quest'azione che si è svolta nell'ultimo periodo. Quindi è iniziata nel passato e sta continuando. Paola. Il gruppo studio lo sa, cerchiamo sempre un segreto per ricordare. Il mio segreto per questo tempo è che è l'unico più lungo. Have been investigating. Esatto. Quindi voglio veramente sottolineare che è qualcosa di lungo. Io ti sto aspettando e i mariti funzionano sempre. Esatto. Forse questo può essere utile. È molto lungo. Present, perfect, continuous. Quindi dà proprio l'idea di qualcosa che si è iniziata nel passato, si continua a svolgere. Voglio proprio enfatizzare. Per me, ad esempio, la cosa che mi aiuta a ricordare è io che chiamo e dico, ma dove sei? I have been waiting for three hours. È proprio, è anche lungo. Quindi I have been waiting. Dà proprio l'idea di qualcosa che è iniziato nel passato, continua e che io voglio enfatizzare la durata di quest'azione. Queste tre ore sono molto sentite in cui ho aspettato. Così forse è più facile da ricordare. Ok. Ci sono altre domande? Posso andare avanti? Vado. Ok. Quindi, present, perfect, continuous. Aiuto. Ok, il present, perfect, continuous si utilizza anche con, cioè, how long, quindi da quanto tempo, per parlare, per chiedere sulla durata di un'azione. Quindi, how long have you been living here? Da quanto tempo vivi qua? Oppure, how long have you been working in that company? Quindi, how long si può utilizzare col present, perfect, continuous, oppure anche con il present, perfect. Si può trovare anche con il present, perfect. E ora arriviamo al nostro for e since. For e since li abbiamo già incontrati prima con il present, perfect, poi avevo detto che li avremmo visti successivamente. For si usa per, insieme ad una durata, quindi ad esempio, we use for with a length of time, con un periodo. Quindi, I have been waiting for you for three hours, per tre ore. C'è una quantità di tempo. Oppure, I have been working here for ten years. For è sempre seguito da una quantità di tempo, da una durata. For three hours, for five days, for ten years, for ten months. Quindi, per dieci mesi, per dieci anni, per cinque giorni, per tre ore. Invece, since è sempre seguito da un momento specifico del passato. Quindi, I have been working here since May 1997. Oppure, since April. Since the fourth of July. Quindi, since è sempre seguito da un momento specifico. Quindi, da giugno, da maggio, dalle tre del pomeriggio, oppure dal cinque giugno. For è sempre seguito da una quantità di tempo, quindi da una durata. Invece, since da un momento specifico del passato. Since può anche essere seguito proprio da una frase. Tipo, since I was a child. I have lived here since I was a child. Da quando ero bambino. Perché è un momento specifico del passato. Invece, Silvana. Irene, scusami. Il present perfect continuous. No, l'abbiamo usato per dire da quanto tempo vivi qui. Sì. Però tu hai detto, può essere, possiamo, avremmo potuto utilizzare anche il present continuous solamente. Present perfect, present perfect. Come sarebbe diventata? Perché, cioè, per me questo è troppo difficile. How long have you lived here? How long have you lived here? In che modo discriminerei tra i due tempi? Perché how long have you been living here? Mette più l'enfasi sullo svolgimento dell'azione. E proprio, io voglio proprio enfatizzare, sono, magari io la, facciamo l'esempio con l'azienda. How long have you been working in that company? Da quanto tempo lavori in questa azienda? Perché voglio proprio enfatizzare la durata di questa azione. Ok? Invece, how long have you worked for the company? È un pochino più, cioè, enfatizza meno lo svolgimento di quell'azione. Magari una persona, cioè, vi faccio un esempio, perché così è più facile. C'è la festa di pensionamento di un collega e dici, mamma mia, how long have you been working for the company? Da quanto tempo hai lavorato per l'azienda? Quanti anni sono che lavori nell'azienda? C'è più l'enfasi sul svolgimento dell'azione. Ad esempio, dirò, I have been working for the company for 30 years. Per 30 anni. Ok? Così. E un pochino, mette più l'enfasi sulla durata dell'azione, sullo svolgimento. Ok. È tutto chiaro? C'è qualche dubbio su four sins? No? Ok, vado avanti allora. Ok, quindi con il present perfect continuous abbiamo chiuso. Adesso vediamo un attimino un altro tempo verbale del passato, ok? Il past perfect. Qua diciamo che diventa un pochino più facile. Allora, il past perfect innanzitutto si forma con il soggetto più had più il past participo. Quindi, noi abbiamo visto che il present perfect aveva have. Invece il past perfect, il suo ausiliare, è semplicemente la forma al past simple del verbo avere. Quindi soggetto più had più past participo. Ad esempio, when she arrived at the station, she realized she had lost her wallet. Forma negativa, soggetto più hadn't, quindi had not, più past participo. Sì? Serena. Scusami, è domanda da ignorante proprio in questo caso. Had vale sempre per tutti i pronomi personali. Quindi it, she... Sì, had rimane uguale. Rimane uguale. Sì, ecco, prima non l'ho detto. Il past simple, quindi quello che si forma con ed, oppure la seconda voce del paradigma, è sempre uguale per tutte le persone. Quindi sarà I played, you played, he, she, it played, e così via. E allo stesso modo anche il past perfect. Had, sempre had, per cui è facile da ricordare. Alessia. Had si apre via con l'apostrofo di? Sì, apostrofo di, attenzione a non confonderlo con wood, perché anche wood si abbrevia con l'apostrofo di. Quindi I would like a cup of tea, a cup of coffee, sarà I'd like a cup of tea. Però diciamo, da che cosa li possiamo distinguere? Tipo dire I would like a glass of water. Però adesso è presto da like, perché se fosse stato il past perfect avremmo avuto il participio passato. Quindi avremmo avuto I had liked, però non si usa, quindi I had liked, sì magari c'è qualche frase in cui lo posso utilizzare, però. Quindi il participio passato noi lo riconosciamo perché abbiamo, il past perfect scusate, lo riconosciamo perché dopo had c'è il participio passato, abbiamo il past participo. Ok? Quindi questo già è un indizio che ci fa capire che quell'apostrofo di farà riferimento a un had. Ok, quindi abbiamo detto soggetto più had, più past participo, forma negativa soggetto più hadn't, had not, più past participo, oppure forma interrogativa had, soggetto più past participo. E le risposte breve saranno yes, had, I, you, 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 and, così via, had, oppure no, soggetto più hadn't. Allora proviamo un pochino insieme a capire quando si utilizza questo past perfect. Michela 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 se forse se hai mai alzato la mano no? Ok. C'è qualcun altro che magari ho sbagliato qualcuno da me, non c'è problema. Che magari leggendo questo primo esempio When she arrived at the station she realized she had lost her wallet. vi viene in mente qualcosa? Alessia Azione passata ma conclusa nel tempo che non ha ripercussioni nel presente? qui c'è la maestra. Allora, diciamo che questo past perfect si utilizza per parlare di un'azione che è avvenuta prima di un'altra azione passata. Adesso vediamo insieme. Ad esempio When I arrived at the station, quando sono arrivata alla stazione, passato, perché qua abbiamo il past simple. When I arrived at the station, I realized, in quel momento mi sono resa conto, che io avevo ancora prima di quell'azione lasciato that I had left my wallet at home, quindi che io avevo lasciato il portafoglio a casa ancora prima, ok? Oppure At school, I remembered, I had left the book at home. Quando sono arrivata a scuola mi sono ricordata che io ancora prima avevo lasciato il libro a casa. Quindi il past perfect si utilizza per parlare di un'azione che è avvenuta ancora prima di un'azione passata. Quindi se avessimo una linea temporale, qua c'è il passato e qua c'è il past perfect, perché è un'azione che è successa prima di un'altra azione passata. Oppure When I saw my mother, I realized that I had left her present at home. Quindi quando ho visto mia madre mi sono ricordata, ho realizzato, che avevo dimenticato il suo regalo a casa. Quindi che, that I had left. Il fatto di aver dimenticato la, arrivo Silvana, il fatto di aver dimenticato il regalo è avvenuto prima che io vedessi mia mamma. Silvana. E poi left è irregolare. Left sarebbe il paradigma? Leave. Leave, left, left. Leave, left, left. Esatto. Quindi io ho dimenticato il portafoglio a casa prima di arrivare alla stazione. Ok? È facile. Non è... Bisogna solo pensarci un attimino e giocare un pochino sulla linea del tempo. Ok? Poi, questo past perfect è anche utilizzato nel discorso in diretto, reported speech. Perché ad esempio se io dico I went to the USA, se io voglio fare il discorso in diretto, in inglese il discorso in diretto è tutto, si fa un salto all'indietro. Quindi dal past simple si va al past perfect. Per cui io dirò Mary said that she had gone to the USA. La frase I went to the USA, past simple, diventerà had gone. Faccio un salto all'indietro. Vabbè. Ok. E si utilizza molto spesso questo past perfect con realize, remember, know, understand. Proprio perché mi sono resa conto di aver dimenticato il portafoglio a casa, ad esempio. Ok. Basta. Past perfect è finito. C'è qualche segona? Sì, no, allora, per rendere un po' più simpatica la cosa, come si dice Lucia stai piangendo in inglese? Allora Lucia, aspetta, stai piangendo in inglese? In inglese. In inglese. In inglese. In inglese. In inglese. In inglese. In inglese, exactly. Poi se volessimo fare una domanda, come diciamo? Una domanda? Una domanda. Lucia stai piangendo. Stai piangendo sempre, no? Do you crying? E dai. No. Ah, sì, è vero, è vero. Do you are crying? Are you crying? Hai ragione. Are you crying in inglese o in giapponese? Are you crying in inglese o in giapponese? Are you crying in ostrogoto? Che scema. Non ti svegli più. New language, ostrogoto. A new language. Silvana. Allora, Irea, Martina ti ha chiesto, ma il past participle, non so come si dice, sarebbe la terza colonna dei verbi irregolari. Esattamente, il past participle è il participio passato, è la terza colonna. Quindi, ad esempio, write, wrote, written, scrivere, write, wrote, written, wrote e il past simple, quindi seconda colonna, past simple. Terza colonna e il past participle. Il participio passato in inglese lo uso per il past perfect e per il present perfect. Poi anche, vabbè, anche per altri, però ricordatevi appunto, past perfect e present perfect. Ok, ci siamo. Vado avanti? Facciamo. Decisamente. L'ultimo, che è tipo la combinazione, abbiamo il past perfect continuous. Però questo è quello che non si usa tanto, vero? Non si usa tanto, perché è una cosa... Il past perfect continuous. Mai visto. E se l'ho visto, lo ignoravo, come tutto il resto. Allora, il past perfect continuous in realtà è facile da ricordare. Semplicemente, anziché avere have, come nel present perfect continuous, abbiamo had, perché è passato, non è più present perfect continuous, è past perfect continuous. Quindi soggetto, quindi soggetto più had, più been, più la forma in inglese. Quindi, ad esempio, facciamo un esempio che così è più facile. When you arrived yesterday, quindi siamo sempre nel passato, quando tu sei arrivato ieri, I had been waiting for you for three hours. Quindi ieri, io, quando tu sei arrivato, io ti stavo aspettando da tre ore, ok? Semplicemente, i contesti tutti sono gli stessi, però nel passato. Serena. Ho bevuto il caffè per quello che mi sono svegliata. Ascolta, ma sto bin, a me viene in mente il participio passato del verbo essere centra o non è proprio niente? C'è una struttura fissa, diciamo, con il present perfect continuous e con il past perfect continuous. Noi abbiamo questo bin, perché si forma proprio così. Come posso fare per farvelo ricordare? Allora, present perfect più continuous. I tempi continuous hanno come ausiliare il verbo essere, tipo I am speaking, oppure I was speaking. Questo qui, il present perfect continuous e il past perfect continuous, è la combinazione, diciamo, di un perfect, che ha come ausiliare have, e il continuous, che ha come ausiliare il verbo essere. Per cui, diciamo che è l'unione, per cui noi abbiamo have, been, che è il participio passato del verbo essere, che è sempre un continuous, quindi l'essere ci deve essere. E poi la forma in lingua. È chiaro, spero che sia chiaro. Scusami, quindi è una cosa che però in italiano non c'è. Non c'è questo unione verbo essere verbo vero che invece in questo caso c'è. È anche difficile capire. No, no, ma anche in italiano questo tempo verbale non è così automatico. Perché non diremmo, io ho stato facendo, no, utilizziamo altri modi per spiegare. Scusami, forse almeno io tendo subito a tradurre, quindi vado con, diciamo, in questo modo, con l'inglese scolastico. Diciamo che soprattutto con questi tempi verbali, quindi con il present perfect continuous, è meglio proprio provare ad astrarsi e provare a capire il contesto d'uso. Quindi quando lo utilizzo? Lo utilizzo per enfatizzare la durata di un'azione. Quindi io, è tre ore che ti aspetto, ti sto aspettando da tre ore. Ed è lo stesso modo in cui noi in realtà tradurremmo anche un present continuous. Perché ti sto aspettando, I'm waiting for you. Però quello indica il presente. I'm waiting for you, quindi io ti sto aspettando, in questo momento ti sto aspettando. È diverso da dire, I have been waiting for you for three hours. Perché dire, I have been waiting for you for three hours, vuol dire che io tre ore fa ho iniziato ad aspettarti e sto continuando a farlo adesso. C'è una connessione tra presente e passato. Però in italiano, magari io direi sono tre ore che ti aspetto. Sono tre ore che ti sto aspettando, forse. Però appunto non si nota questa differenza. Ok. Se è chiaro, Anna, che aveva alzato la mano? No. Ciao ragazze, buongiorno. Ciao. Io ho una domanda sulla duration form. Perché spesso mi esce nelle quiz la differenza tra for e since. Quindi volevo sapere qual è la regola principale. Allora, la differenza tra for e since è che for è sempre seguito da una durata. Quindi da una quantità, diciamo, da una quantità di tempo. Quindi for three hours, for five hours, for five years. Quindi per cinque anni, dieci mesi, dieci ore. Quindi for è sempre seguito... Aspetta che prendo la slide così magari è più chiaro. Ok, eccolo qua. For è sempre seguito da una length of time, quindi da una durata. Invece, quindi I have been waiting for you for three hours. Ti ho aspettato da tre ore. Per tre ore. Three hours è una quantità. Invece since è sempre seguito da un momento specifico. Quindi a specific point of time. I have, ad esempio, since May. Non è da tre mesi, ma è da maggio. Da un momento specifico del passato. Oppure since Monday. Da lunedì. Non è una durata di tempo, ma è un momento specifico. Quindi since 1986, dal 1986, dal 2010, da Natale, since Christmas, since the 4th of July, dal 4 luglio. Quindi since è sempre seguito da un momento specifico. For, da una quantità di tempo. Quindi for three hours, for ten years, for two weeks. Invece since, momento specifico. È chiaro? Sì, chiarissimo. Grazie. Ok, prego. Ok, vado avanti. Così finiamo il past perfect continuous. Allora, questo past perfect continuous si utilizza, così come in realtà il present perfect continuous, si utilizza per descrivere un'azione non conclusa, oppure dove voglio enfatizzare la durata, però in riferimento ad un'altra azione che è avvenuta nel passato. Quindi, ad esempio, I had been studying all day and I was really tired. Quindi nel passato, io in quel momento avevo studiato tanto per tanto tempo ed ero stanco. Quindi, si sta facendo riferimento al passato. Stessa cosa del present perfect continuous, ma semplicemente al passato. Oppure, appunto, When you arrived, I had been waiting for you for three hours. Quando tu sei arrivato nel passato, io prima ancora, che cosa? Stavo svolgendo l'azione di aspettarti. Ok? Semplicemente si fa riferimento al passato. È chiaro? Questo past perfect continuous non è molto frequente, perché comunque, già, dovrei fare riferimento ad un'azione passata, quindi un'azione che era in corso di svolgimento nel passato, prima ancora di un'altra azione passata. Ok, è chiaro? Vado avanti? Vado avanti. Ok, abbiamo finito i passati. Andiamo avanti con i futuri. Future tenses. Allora, oggi insieme vedremo Will, più forma base. To be going to, più forma base. Il present simple e il present continuous utilizzati come futuri. Future continuous e future perfect. Ok? Future continuous e future perfect ogni tanto si trovano, più che altro per i quiz, li vediamo un attimo velocemente. Diciamo che però i principali sono Will, to be going to. Allora, partiamo. Will, più forma base. Soggetto. Will, che alla forma contrata diventa apostrofo doppia L, più forma base. Quindi, I'll have a cup of coffee, please. Oppure, forma negativa, soggetto. Will not, che diventa won't. Con la O, mi raccomando, non confronterlo con won't. Quindi, won't. Seguito dalla forma base del verbo. Tipo, I think inflation won't increase over the next months. E poi, forma interrogativa, will. Più soggetto, più forma base. Will you marry me? Yes, I will. Oppure no, I won't. Quindi, quando si utilizza questo will? C'è qualcuno che si ricorda che magari vuole già fare un piccolo adesso? Allora, ascolta, Irene. Io ho questa, appunto, rimembranza, se si può dire così. Se si possa dire così. Di will con if. Ah, ok. Quelle sono le frasi ipotetiche. Ah, ecco. If, introduce una frase ipotetica. Quindi se, perché if vuol dire se. E vedrete, penso martedì con il collega, che if, cioè will si utilizzerà, vedrete, per le frasi ipotetiche di primo tipo. Quindi, tenetelo a mente perché poi lo vedrete col collega. Si utilizza per fare delle frasi ipotetiche, esatto. Per Silvana è solo un avviso. Martedì non riesco a seguirlo, quindi non romperò Silvana. Tranquilla, vedrò la registrazione. Ok, quindi ecco, molti di questi tempi verbali in realtà si utilizzano poi nei periodi ipotetici, quindi appunto poi tanto li rivedrete con il collega. Ok, quindi vediamo un attimino. Will innanzitutto si utilizza per indicare un'azione futura. Si utilizza in particolare per parlare di, per fare delle previsioni, per parlare di che cosa noi pensiamo succederà in futuro. Ad esempio, I think temperatures will rise. Io sto dicendo che cosa penso, sto facendo una previsione, sto dicendo che cosa succederà secondo me nel futuro. Oppure utilizzo will anche per fare, per prendere una decisione immediata. Ad esempio, would you like a cup of tea? No thanks, qua manca un S. No thanks, I'll just have a glass of water. Noi in italiano cosa utilizziamo il presente? Prendo un, prendo un bicchiere d'acqua. In inglese invece utilizziamo il, il will. Quindi I'll have a cup of tea, I'll have a cup of coffee. Con will, perché quando prendo una decisione immediata sul momento, che riguarda l'immediato futuro, utilizzo will. Ad esempio, vi faccio un esempio per questo, I'll live tomorrow. Facciamo un esempio della scuola. Ricevete una convocazione da GPS. Sono le, è la sera e dite, oh mamma mia, mi hanno mandato dall'altra parte. Dice no, subito, I'll live tomorrow. Domani parto, ok? Perché vi è arrivata la convocazione e domani partite. Per cui direte I'll live tomorrow. Non I'll live tomorrow, perché con present simple voi fate una, una, state facendo una frase che è generica, ok? Ma state prendendo una decisione sul momento. Vi è appena arrivata l'email, la convocazione e dite, ok, I'll live tomorrow. Domani parto. Oppure si utilizza anche will per fare delle offerte o delle promesse, oppure a warning. Quindi dare un avviso. E infatti in inglese per fare la proposta di matrimonio, quindi l'offerta, si utilizza will. Will you marry me? Mi vuoi sposare? Will you marry me? Un'offerta. Oppure promise. Quindi I'll give you my computer. I promise I'll give you my computer. Ti prometto che ti darò il mio computer. Quindi will diciamo che si utilizza per fare delle previsioni su quello che noi pensiamo succederà in futuro. oppure per parlare di decisioni immediate che sono lì sul momento, oppure per delle offerte, delle promesse, oppure per avvisare qualcuno. Ok. Vado avanti? Tutto chiaro? Vado avanti. Allora, to be going to. Secondo modo, secondo tempo verbale che possiamo utilizzare per il futuro è to be going to. To be going to, soggetto, più am, is, are, a seconda chiaramente di quale sia il soggetto, più going to, più la forma base. Ad esempio, look at the clouds. It's going to rain. Guarda le nuvole. Pioverà. Oppure, forma negativa, soggetto, più am not, isn't, aren't, più going to, più la forma base. Quindi in the future I'm not going to live here. Forma interrogativa è are, am, is, più soggetto, più going to, più forma base. What are you going to do next summer? Che cosa hai intenzione di fare la prossima estate? I'm going to visit Scotland, but I still have to plan my trip. Quindi visiterò la Scozia, ma devo ancora pianificare il mio viaggio. E la risposta breve sarà con yes, are, you, e così via, am, are, is, oppure am not, isn't, aren't. Quindi questo to be going to è sempre seguito dalla forma base. E quando si utilizza to be going to? Chi è che si ricorda? Ivana. Tipo per una previsione? Esatto. Silvana? Quando si è certi che l'azione si verificherà, insomma, pianificata. Esatto. To be going to si utilizza per un'azione che è pianificata, ad esempio, come nel secondo, nell'esempio What are you going to do next summer? Che cosa hai intenzione di fare? Maria Antonietta? No, volevo dire eventi già pianificati. Snì, perché per gli eventi già pianificati poi vediamo, c'è un tempo proprio ad hoc, però il to be going to si utilizza per parlare di piani che noi abbiamo, magari non sono ancora proprio definiti, però sono dei piani che noi abbiamo per il futuro, tipo next year I'm going to study abroad, il prossimo anno ho intenzione, studierò all'estero, ok? Ho intenzione di studiare all'estero. Quindi, primo caso del to be going to si utilizza per parlare di piani e intenzioni future, tipo I'm going to visit Scotland next year, visiterò, ho intenzione di visitare la Scozia il prossimo anno, I'm going to study abroad, oppure to be going to si utilizza anche per fare delle previsioni, ma quando, diciamo, la causa di quella previsione è evidente, è visibile. Quindi, ad esempio, io guardo la finestra, vedo dei nuvoloni neri e dico look at the clouds, it's going to rain. La mia previsione è basata su, non su quello che io penso, ma è basata su quello che vedo. Quindi look at the clouds, it's going to rain. Oppure, guardo il fiume, vedo che è sempre più alto e dico look at the river, it's going to flood. Guarda il fiume, la causa è evidente, quindi. Probabilmente esonderà, ok? Quindi la differenza tra will e to be going to, in realtà è abbastanza sottile, però la differenza consiste nel fatto che to be going to si usa quando la causa è evidente, e la vedo, è lì. Invece will si usa per delle previsioni basate su quello che io credo succederà, ok? Quindi I think it will rain. Ma penso, sì. Invece è diverso dire vedo dei nuvoloni neri e dico no, it's going to rain, ok? È chiara la differenza tra will to be going to? Sì? Ok. Maria Antonietta 9, va alzato la mano forse per prima. Ok. Va bene, allora andiamo un attimino avanti adesso. Adesso guardiamo. Present Simple and Present Continuous utilizzati come tempi futuri. Proprio quello che diceva forse Maria Antonietta prima. Per parlare invece di piani, di eventi futuri, che però sono già organizzati, noi utilizziamo il nostro Present Continuous. Il Present Continuous che è I am visiting, oppure I am leaving, you are leaving e così via, si utilizza con valore di futuro per parlare di, diciamo, eventi che sono già organizzati, che sono abbastanza sicuri. Ad esempio, I'm going to Scotland next week. Io andrò in Scozia la prossima settimana. Cosa significa? Significa che è un evento già pianificato, perché magari ho già comprato il biglietto, ho già prenotato l'albergo e, praticamente sicuro, poi certo che c'è quel po' di incertezza, ma è un evento che è già pianificato. Oppure, we are leaving tomorrow at 4 p.m. We are having, oppure, manca, è un terzo esempio. We are leaving tomorrow at 4 p.m. Primo esempio, secondo esempio. Domani partiremo alle 4. Magari abbiamo già comprato il biglietto, quindi è già organizzato, è un evento già organizzato. Oppure, we are having a party tonight. Stasera facciamo una festa, abbiamo già comprato tutto, abbiamo già invitato tutti, abbiamo già cucinato tutto quanto. Present continuous, quindi, con valore di futuro, lo posso utilizzare per descrivere degli eventi che sono già organizzati e praticamente sicuro che avverranno. Allo stesso tempo, posso anche utilizzare il present simple con valore di futuro. Quando? Quando c'è un evento fisso, cioè c'è un evento sicuro, come ad esempio delle date, oppure degli orari, che in realtà non dipendono da noi. Ad esempio, Christmas is on Monday. Natale sarà di lunedì quest'anno. È un timetable, è una data, non dipende da noi, non c'è una scelta personale. Oppure, the train leaves tomorrow at 8 o'clock. Il treno partirà domani alle 8. Non dipende da noi, è una cosa fissa, è stata scelta da altri. È un timetable, è un orario. Quindi utilizzerò questo present simple per descrivere che cosa, delle date, degli eventi che sono fissi, perché sono stati decisi da altri, perché non dipendono da noi. Invece il present continuous lo utilizzerò per che cosa? Per parlare di eventi che sono fissi, che sono già organizzati. Quindi, magari io mi sono già bossa per far sì che avvengano. Silvana, forse? Ok. No, devo rileggere. E allora, la differenza è che col present continuous è già, è un evento futuro che è già organizzato. Ma sono io che ho scelto, io che ho fatto tutti i passi per far sì che avvenga. Tipo, ecco, vediamo così, proviamo a fare la stessa frase, ma al present continuous e al present simple. Allora, we are leaving tomorrow at 4 p.m. Domani partiremo alle 4 del pomeriggio. Magari prendiamo il treno. Abbiamo già comprato i biglietti per il treno. Abbiamo già preparato le valigie. È un arrangement, quindi è un evento organizzato. Ci siamo organizzati per partire domani alle 4. Invece, con il present simple, indichiamo una data, indichiamo un orario. Ad esempio, the train leaves tomorrow at 8 o'clock. Il treno domani parte alle 8. È una data. Non dipende da noi. È una cosa che è fissa, che è così, perché è stata stabilita da Trenitalia, da altri. Ok? Quindi non c'è una scelta personale. Nel present continuous è semplicemente, voglio dire, qualcosa che avverrà, un'azione futura che avverrà, perché è già organizzata. Quindi nel present continuous, diciamo, se volessimo fare un po' un paragone, nel present continuous dipende da noi. Nel present simple no. È una cosa che è così. Il treno parte alle 8. È così. Ok. Alessia, forse ha alzato la mano? L'esempio che mi è venuto è, tipo, noi studieremo da domani, è una cavolata, perché il concorso ci sarà il giorno preciso. Esatto. Esatto. Tipo, ecco, noi studieremo domani, oppure noi partiremo, ecco, forse anche meglio, noi partiremo domani, partirò domani, perché il concorso è martedì. Quindi io domani partirò, magari ho già comprato il biglietto, ma l'esame, quello è, non possiamo cambiare la data, non dipende da noi. Ok? Quindi I'm leaving tomorrow, because the exam is on Monday. Quindi io domani partirò, ho già comprato il biglietto, è già fisso, perché devo, perché l'esame sarà di lunedì e non dipende da me. L'esame quello è, quindi. Andrea. Ciao, potrebbe essere utile anche, visto che il present continuous, in realtà, abbiamo visto prima che è introdotto magari a now, at the moment, quindi tutti avverbi di tempo precisi. Qui in questo caso ci sono effettivamente delle dimensioni temporali future, next week, tomorrow. Può essere, sì, può essere. Quello che dovete ricordarvi è che con il present continuous è una cosa che è quasi certa, cioè non è proprio sicuro al 100%, perché magari può capitare chissà che cosa, però io ho già organizzato magari il viaggio, mi sono già organizzato, ho già prenotato l'albergo, ho già magari prenotato il viaggio, ho già preparato la valigia, quindi è una cosa che è abbastanza sicura. Invece il present simple è una cosa che è certa, perché così è, non dipende da me. Quindi l'esame è di lunedì, così è. Però io domani partirò. Quindi I'm leaving tomorrow because the exam is on Monday, is next Monday. Ok? Quindi questa è la differenza tra present continuous e present simple. Tutto chiaro? Vado avanti? Ok. Allora, gli ultimi due tempi verbali, poi abbiamo finito. Gli ultimi due tempi verbali che vorrei vedere oggi sono il future continuous e il future perfect. Io li ho inclusi perché a volte secondo me capitano, però diciamo che sono un po' più circoscritti, hanno dei contesti d'uso ben specifici. Allora, il primo è il future continuous, che prevede soggetto, più will, più be. Ah, Maria Antonietta ha alzato la mano? No, vero? Forse ancora per prima? No, sempre da prima. Ok, va bene. Silvana? Irene? Scusa, cosa hai detto? Ah, shall sì, però è più un, diciamo, inteso come tra i verbi modali. Però sì, shall più per le offerte. Tipo shall we go? Andiamo? Quindi io non l'ho inserito perché ho fatto proprio solo i verbi. Però sì, tenete conto che shall si usa per le offerte, per le proposte. Shall we meet outside? Ci incontriamo fuori? Ok. Vado avanti? Sì. Ok, future continuous. Allora, di nuovo troviamo questo continuous. E quindi, di nuovo, ci ricorderemo che farà riferimento ad un'azione che sarà in corso di svolgimento, ma nel futuro. Quindi si costruisce con soggetto, più will, più be, che rimane così. Quindi be lo si lascia così com'è, più la forma in ing. Ce la faccio, eh? In 15 minuti, giuro. Allora, this time, next week, I'll be doing my exam. Quindi a quest'ora, la prossima settimana, starò facendo il mio esame. I'll be doing, I will be doing my exam. Poi, forma negativa, subject, you will not, won't, forma contratta, be, più ing. Quindi this time, next year, I won't be attending university anymore. Quindi a quest'ora, il prossimo anno, non starò più frequentando l'università. Forma interrogativa, will, soggetto, più be, più la forma in ing. What will you be doing in five years' time? Che cosa starai facendo da qua a Silvana? Shall we study from tomorrow? Yes, from tomorrow. Ok. Torna all'interrogativo. Quindi will, più soggetto, più be, più la forma in ing. What will you be doing in five years' time? Quindi che cosa starai facendo tra cinque anni? E la forma, la risposta, sarà la risposta breve con will or won't. Quindi quando utilizzeremo questo future continuous? Per? Serena forse vuole aver alzato la mano? Sì, scusami. Nella interrogativa. Sì. Davanti a will, posso mettere where, when? Sì, 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 chiaramente quelle sono le... Sì, 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 sì. Possiamo metterlo come anche no, tipo Will you be studying English in five years' time? Oppure what will you be studying? Ipotesi... Diciamo che si utilizza questo future continuous per parlare di un'azione che io starò svolgendo in un momento preciso del futuro. È più facile ricordare un esempio. Vediamo un attimino. perché... Così detto così... Allora, quindi noi utilizziamo questo future continuous per parlare di un'azione che sarà in progresso, che sarà in corso di svolgimento in un momento specifico del futuro. Quindi... By the time you receive my letter, I will be traveling. Quindi quando riceverai la mia lettera, io starò viaggiando. Oppure... This time, next week. Quindi a quest'ora, la prossima settimana, noi staremo facendo il nostro esame. We will be taking our exam. Quindi sto semplicemente dicendo che cosa farò che cosa farò in un momento preciso, quindi l'azione che starò svolgendo in un momento preciso del futuro. I will be studying. We will be... Terri... Sì, no. We will be terrified. No, we will be freaking out. Freak out vuol dire aiuto, sono... Sarò agitata. Ok? Quindi... This time, next week, we will be studying a lot. for our exam. Ok? Future continues. L'ultimo, poi abbiamo finito, è il future perfect. Future perfect. Soggetto più will. Più have, che rimane sempre così, più il participio passato. Quindi by the time we'll get to the cinema, the movie will have already started. Quindi sarà già iniziato. Quindi per l'ora in cui arriveremo al cinema, il film sarà già iniziato. Oppure, forma negativa, soggetto più won't, più have, più past participle. By the time you come home, quindi per l'ora in cui arriverai a casa, I won't have finished my homework. Non avrò finito i miei compiti. Forma interrogativa. Will, più soggetto, più have, più past participle. Quindi, will you have eaten when you come home? Avrai mangiato quando arriverai a casa? Quindi un'azione che, siamo sempre nell'ambito del futuro, però un'azione che nel futuro io avrò già svolto. Ok, Silvana. Irene, non so se Maria Antonietta voleva intervenire, vedevo la mano alzata ancora, però ti volevo chiedere. No, ma io non la sto alzando, non la sto alzando, resta sempre quella di prima, non lo so perché. Criccaci su Maria Antonietta, così va via. Perfetto. Irene, però io ti volevo chiedere un'altra cosa, lo so che tu stai parlando del futuro, però se torni alla slide precedente. Quella del future, questa? Continuous. No, ancora indietro, scusami. Così. Ecco la, allora, no no, questa dopo, quella dopo, scusami, dove hai cominciato a parlare del... No, questa qua. Eh, ok, allora, nell'interrogativa, tu hai, what will you be doing, be doing in five years time? Lo so che non c'entra col will, però, quel years time, in five years time, perché c'è l'apostrofo? c'è chi è un genitivo? C'è chi è scusato? nel, eh, perché nel, nel, in cinque anni, in five years time, nel gigo di, come posso dirvi, eh, nel gigo di cinque anni, five years time. Cioè, non è un genitivo, no? Eh, mh, mh, sì, no, è genitivo, ah, è genitivo? Nel tempo di cinque anni, sì, nel... Cioè, vedi come sono complicati, cioè, che cavolo di possesso è nel giro di cinque anni? Vabbò. Nel giro di cinque anni, sì. Vabbò. Ok, vado avanti, abbiamo quasi finito, eh, questo è l'ultimo, un po' più pesante. Allora, feature perfect, quando si utilizza? Si utilizza per parlare di un'azione che io avrò completato nel futuro. Quindi io, è come se pensassi al futuro e guardassi indietro. Quindi, prendendo sempre l'esempio di prima, by the time you receive my letter, quando riceverai la mia lettera, I will have left the country. Io avrò già lasciato il paese. Oppure, I promise I will have finished my homework by the time you get home. Quindi io ti prometto che avrò finito i miei compiti, quindi un'azione che è completata, è finita nel futuro, by the time you get home. Quindi, per quando torni a casa. Ok, è chiaro quando si utilizza questo future perfect. Quindi io sto... Lucia, lo so, mi dispiace, ma abbiamo finito, basta. Questo future perfect è giusto per chiudere. Quindi, qualcosa che io ho concluso, che avrò concluso nel futuro. Finito. That's it. Quando tu... Ok. Ok. Barbara, forse hai alzato la mano? Sì, penso di sì. No. Ok. Ok. Va bene. Io ho Andrea. Sì, scusami, stavo leggendo la frase by the time you receive my letter. Ma you receive, in quel caso. Perché abbiamo by the time. Ci sono alcune espressioni, tipo as soon as, piuttosto magari vi... No, ma intendo dire, è un present simple con funzione di futuro? Sì, perché ci sono alcune espressioni, tipo, aspettate che ve le dico tutte, così magari ve le segnate, perché non... Ok. Allora, ci sono alcune espressioni, come as soon as, ve le scrivo? eh... No, no, guarda, era solo un dubbio perché... as soon as, after, before, by the time, immediately, the moment, until, and when, che quando vengono utilizzate con riferimento al futuro, quindi non quando io avevo 12 anni, ma quando andrò all'università, tipo, tutte queste espressioni, quando vengono utilizzate con riferimento al futuro, sono sempre seguite dal present simple. Ve le... Vediamo un attimino così. Allora, as soon as, after, before, by the time, immediately, the moment, until, e when, quando vengono utilizzate con riferimento al futuro, sono sempre seguite dal present simple, quindi I receive, she receives, she talks, e così via. Grazie mille. Prego, grazie che me l'hai detto perché volevo dirvelo, mi stavo dimenticando. Questo forse possono, potrebbero esserci delle domande con questo, perché è una regoletta un po' più... cioè, un po' meno conosciuta, quindi potrebbe esserci. Ok, ho detto tutto... Ah, no, un'altra cosa che vi dico, per esprim... Poi basta, ho finito, giuro, perché se no non vado più avanti, cioè non finiamo più. Un'altra cosa importante, ci sono alcune espressioni che si possono utilizzare per indicare il futuro, per parlare del futuro, che sono ad esempio B2, B2, tipo, I'm to, I'm to leave in about 10 minutes, oppure I'm about to leave in 10 minutes, e vengono utilizzate per dire qualcosa che sta per accadere, ok? Quindi sto per, sto per, oppure, the webinar is to start in five minutes, il webinar sta per iniziare, oppure, possiamo anche utilizzare, beyond the point of, is on the point to start, the webinar is on the point to start, oppure possiamo anche utilizzare, poi basta, be due, be due to start, scritto proprio due, be due to, e, aspetta che lo scrivo qua, be due to, e questi, esempio, lo scrivo l'esempio, the webinar is due to start in five minutes, quindi il webinar deve iniziare, sta per iniziare, ok? Boh, basta, queste sono tutte espressioni che possiamo utilizzare, that's it, ho detto tutto, sì, ok. Allora, Irene, perdonami, a proposito del, son, as, eccetera, eccetera, quindi di espressioni che si riferiscono al futuro, seguite dal, present simple, se io volessi dire, fino a che, sarai con me, io, riuscirò, che ne so, a fare tutto, dico una cavolata, until, no? Until you stay with me, sì. Quindi, stay, S-T-A-Y, sì, stai, until you stay with me, until you are with me, poi lì, dipende un pochino, però, sì, until you stay with me, until, until we are together, mh? Ok, perfetto. Va bene. Allora, ragazze, io, faccio le vostre veci, perché tanto lo state scrivendo anche su Telegram, eppure qui, con le reazioni, se vi fa piacere, dicevo, fate una storia taggandoci, perché Irene e Tiziano, le ho trovati proprio così, e quindi, devo cercare di beccare anche qualcuno che ci fa informatica, perché anche da quel punto di vista siamo inguaiate, e, niente, per il resto, grazie Irene, super eloquente, troverete le sue registrazioni, le linko poi su YouTube, in due parti, ovviamente, adesso devo vedere che cosa abbiamo trattato nella prima e nella seconda, perché ho un mondo di roba, e niente, per il resto, prossimo appuntamento, sei stata bravissima, super chiara, modifica le lezioni, eccetera, eccetera, sono tutti per te, che grazie, prossimo appuntamento, no ragazze, non cediamo il materiale, semplicemente perché, già lei si è prestata per fare una lezione, fondamentalmente sul mio canale, e quindi potete tranquillamente, cioè in sostanza, comunque lo lascia lì, cioè nel senso che, rivedendo la lezione, alla fine comunque lo vedete, che volevo dire, ci vediamo domani mattina, alle sei, poi gli altri appuntamenti, li trovate sempre nelle storie, grazie ancora Irene, niente, spero di, spero di vederti, soprattutto perché se facciamo un'altra live, magari, la faccio io, quella dei quiz, ci sentiamo io e te, perché magari se ci sei, sì, la trovate su YouTube, la troverete, perché magari se ci sei, la faccio qui, in modo che tu possa commentare, ok, va bene, sì, io non credo di riuscire a fare proprio un'altra lezione, no, no, però magari ci, facciamo una live, in cui faccio i quiz, se tu mi dici io ci sono, va bene, la facciamo qui su Meet, in modo che sotto abbiamo qualcuno, che non dica stronzate quanto non so, va bene, vediamo, magari poi ci, ci organizziamo, vediamo un attimino, va bene, va bene, ok, grazie, Allora, domani mattina intendevo, ah no, sì, scusami, domani mattina su YouTube, sì, 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 la live, ragazzi, il tempo di caricarla, quindi ci vorrà, credo una mezz'oretta, grazie Irene, grazie mille, buona domenica a tutti, grazie mille, buona domenica, ciao, ciao, grazie, come troviamo Irene su IG, Irene, dille come, di come ti chiami, no, ma io ho un canale, cioè non sono, non faccio niente su Instagram, non si vuole, non si vuole far taggare, no, Irene è molto, ma peccato perché non ho, cioè, è privato, non ho niente, in realtà non pubblico niente, mi spiace, vabbè dai, taggate me perché alla fine, taggate si fa, sì, è il mio profilo che gira, sì, no, io non ho un profilo, diciamo, di niente, è discreta, arrivo sì, vabbè, ciao ragazzi, grazie a cuore, buona domenica, grazie, ciao, 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 ciao,